Allora sono a Grado, in provincia di Gorizia, nell'Alta Italia, vicino praticamente alla Croazia. Questi erano territori, un tempo, della grande e serenissima Repubblica di Venezia nei tempi, nei periodi floridi, nei periodi prosperi. Questa sera qui all'Hotel La Storia mi daranno il premio per la canzone cameriere, un canzone che ho scritto perché ho fatto il cameriere per vent'anni, però sarò premiato addirittura dall'Amira, che è l'associazione dei metri, dei ristoranti e degli alberghi, insomma di tutti quelli che fanno questo mestiere, soprattutto ad alti livelli. Ci sarà la gara di flambè, la gara dei sommelier, ci saranno dei premi, delle borse di studio per chi vincerà e premieranno, ecco la canzone cameriere, che ho fatto vent'anni. Il cameriere ci sarà il comune, ci sarà il sindaco, ci sarà la giunta, ci saranno i monsignori, ci saranno i telegiornali, insomma una roba molto bella, ogni tanto una gioia. E guardate il taglio delle stanze, questa è la stanza, l'entrata praticamente, un grande atrio, lo specchio, vedi? Sono in box, insomma perdonatemi, essendo nella stanza, qui c'è un letto, vedete, un letto con il bagno, un bagnetto, ma non è mica finita, perché di là c'è un'altra stanza, qua c'è un'altra stanza, ecco la stanza più grande, che me ne faccio, però grazie, con la vasca idromassaggio. Poi qua nell'albergo c'è la piscina riscaldata con l'acqua di mare, capito? Cioè stasera facciamo un festone, la voglio devastare questa stanza, scherzo ovviamente. E poi guardate qua c'è il mare, si vede il mare lì, ora non si vede perché c'è il riflesso del sole, però lì è tutto mare, tutto mare, e anche di là c'è il mare con la spiaggia, vedete laggiù in fondo, la lunga spiaggia che ora non so se vedete, si vede poco perché è ancora in allestimento perché la stagione comincia adesso. E niente, che dire, col casco me la danno a voi.